Musica Amici di Circoli Tennis Romagna, benvenuti a una nuova puntata di questa trasmissione itinerante che va a scoprire le realtà del territorio, i Circoli Tennis della nostra comprensorio e oggi siamo al Tennis Club coreano, un club che visitiamo per il terzo anno e per il terzo anno registriamo dei progressi importanti, siamo partiti con i primi progressi di un circolo che stava rinascendo e stiamo invece oggi parlando di un club che si è completamente affermato e non ha ancora finito il suo processo di crescita. Ne parliamo con il presidente del circolo, Fabio Dini, un circolo che ha un suo rilievo ormai veramente importante nel panorama provinciale ma anche regionale, pensate che siamo a maggio e questo club ha già organizzato due tornei federali e ha già messo in campo diverse società, diverse squadre per i campionati regionali indoor e siamo solo all'inizio si può dire, quindi c'è ancora tanto, tanta carne al fuoco, tante belle iniziative qui al circolo tennis e parleremo con il presidente non solo del tennis giocato ma anche del tennis pensato cioè quello che si sta ragionando di realizzare, di costruire in questo bellissimo club coreano. Ora, presidente, prima di tutto diciamo dove siamo arrivati in questi tre anni perché è sempre bello registrare i progressi e fare un po' il check del livello che si è raggiunto. Adesso abbiamo avuto un paio di anni di assestamento, già da quest'anno pensiamo di ricominciare con piccoli investimenti perché abbiamo trovato le risorse e stiamo aspettando in questo momento il permesso per rifare gli spogliatoi che li allarghiamo, già dalla prossima settimana facciamo il muro e poi non siamo sicuri al 100% ma molto probabilmente riusciremo a fare anche la palestra. Quindi, fatti questi piccoli interventi, il circolo secondo me sarà molto più completo e più adeguato alle esigenze dei ragazzi e di tutti i soci. Quindi, non ci fermiamo e andiamo avanti. Qui non vi siete mai fermati in realtà, no? Perché ogni anno un piccolo tassello, un passaggio in avanti, nuovi spogliatoi, palestra, i campi sono già belli pronti. Insomma, la qualità delle strutture è il vostro fiero locchiello, vero? Sì, come ho già detto tante volte. Noi non possiamo competere con gli altri circoli come, non so, quando abbiamo fatto le riunioni, quando abbiamo fatto le vostre riunioni, le vostre cene. Ci sono presidenti e maestri che parlano 20 minuti, mezz'ora di risultati avuti con i ragazzi. Noi abbiamo un'agonistica da due anni e mezzo da quanto è arrivato il maestro Switz. Prima avevamo solamente una scuola, quindi non possiamo essere competitivi a questi livelli. Però, nel frattempo, stiamo costruendo un circolo che dia tutte le possibilità, abbia tutto quello che serve per il futuro, per i ragazzi che stanno crescendo. Quindi noi intanto ci prepariamo con tutto quello che serve, insomma. Tutto quello che serve. E tra l'altro, Presidente, avete già fatto, lo accennavo prima, un inizio di stagione importante perché due tornei federali, una novità assoluta, il torneo di doppio di quarta, il torneo di quarta limitato al terzo gruppo e tante squadre per i campionati regionali indoor. E questo è il segnale della quantità, oltre che della qualità del lavoro che state mettendo in campo. Sì, noi ci impegniamo, cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo già fatto due tornei, siamo contenti. Questa poi del doppio è stata una sorpresa perché non pensavamo di raggiungere un successo. Per noi è stato un successo. E oltretutto chi è venuto si è molto divertito, è piaciuto a molti. Quindi sicuramente lo ripeteremo il prossimo anno e andiamo avanti. Adesso a giugno abbiamo il torneo l'Open Femminile che per noi è il fiore all'occhiello. Ci piace tantissimo, forse è il torneo dove investiamo di più perché ci piace proprio. E andiamo avanti. Abbiamo il quarta categoria agosto e poi a settembre quello degli under. Perché quest'anno, quello di agosto, non sarà solo di quarta ma è limitato ai 3-3. Quindi abbiamo aggiunto ancora un tassello per aumentare un pochino la qualità. Un altro gradino di qualità. Presidente, ci puoi dire quali sono i numeri del tennis club coreano? Quanti sono i soci, quanti sono i ragazzi che frequentano la scuola, le squadre che avete messo in campo? Insomma, un po' per dare anche l'idea del movimento che questo club è riuscito a mettere in mondo. Allora, dopo i primi anni che siamo partiti da zero, siamo arrivati a un buon numero. Adesso ormai sono un paio d'anni che ci siamo assestati circa sugli 80-90 bambini che fanno, tra il mini tennis e la scuola, che vengono regolarmente a giocare. Poi abbiamo una ventina di ragazze che fanno l'agonistica e questo è il settore giovanile. Poi abbiamo i soci, i soci fra uomini e donne saremo circa 130-140 persone. E abbiamo un successo soprattutto con gli adulti, con i corsi adulti, che abbiamo veramente tante persone, tanti ragazzi che vengono a giocare. Le squadre abbiamo nei ragazzi under 12, under 14, under 16, andiamo bene con i maschi, che invece con le femmine e con le donne siamo un pochino, siamo un po' in difficoltà. Poi invece abbiamo per la Coppa Italia, nella maschile abbiamo una D2, una D3, una D4 e nella femminile abbiamo una D1, una D2, una D3. Siamo al completo. Al completo, avete occupato tutte le categorie. Mi piace anche raccontare un po' la notevole attività sociale del club. Voi fate attività agonistica, quindi tornei federali, quindi attività di un certo livello nazionale, però stare in questo club è bello anche perché voi siete tutti amici e ogni tanto c'è una cena a tema. L'inverno le fate dentro i palloni, l'estate le fate in questo bellissimo spazio all'aperto. E quindi è bello stare al tennis club coreano non solo per giocare e per incrementare il proprio bagaglio tecnico, ma anche per incrementare le amicizie, perché qui si sta veramente bene a livello umano. Sì, è sempre stata un po' la nostra idea. Siamo partiti con quell'idea, ancora la manteniamo. Come dicevi tu, noi in estate facciamo una cena al mese e i numeri sono alti perché abbiamo raggiunto anche 170 persone, quindi vuol dire che la gente piace, è bello stare insieme. Adesso abbiamo iniziato a farle anche d'inverno sotto la struttura e funziona anche quello. Adesso ormai gli abbiamo dato il viso, bisogna mantenerlo. Bene, quindi a livello sociale un club straordinariamente attivo e simpatico. Si sta bene qui al tennis club coreano, non solo per giocare a tennis, ma anche per stare qui un pomeriggio, per fare due chiacchiere, bere qualcosa e stare in compagnia. Benissimo, Presidente, col Presidente poi tireremo le somme di questa puntata alla fine e adesso vorrei parlare con il settore tecnico. Il settore tecnico è rappresentato dal maestro Stefano Swick, che è il responsabile di tutta la struttura a livello tecnico e con la maestra o istruttrice, istruttrice di secondo grado, perché qui bisogna stare attenti con i titoli, anche perché la federazione sta facendo un lavoro piuttosto capillare e molto preciso, istruttore di primo grado, di secondo grado, poi c'è maestro mazionale, tecnico nazionale. Ci sarebbe anche ricercatore, ma non credo che le abbiano mai fatti quella fine. Ricercatore? Va bene. Allora, questi sono quattro livelli, quindi Alice Grilli, però Alice Grilli non è che parte da un livello basso, lei già parte da un livello, da seconda categoria, di una delle migliori d'Italia, quindi dopo con Alice parleremo anche di questo, la neodottoressa, la neofarmacista Alice Grilli, che ha trovato tutte le alchimie giuste per trovare il campione di tennis. Allora, Stefano, partiamo da Stefano, perché Stefano Suic è il responsabile di questa struttura da un punto di vista tecnico. Praticamente la tua presenza qui nel circolo è coincisa con l'avvento di Fabio Dini. voi siete, diciamo, culo e camicia non è un po' brutto, però siete uno alla faccia della... Guarda, si è un po' trasformato anche, se lo vedi, nell'abbigliamento. Cerca di imitarmi. Ancora non ci riesce, però prova. Prova, ci prova. Stefano, quindi tu sei arrivato qui tre anni fa e hai cambiato un po' la faccia di questo club. Adesso, dopo tre anni, è anche il momento di fare un po' il punto, non il bilancio. Il bilancio si fa alla fine, però il punto si può fare perché il movimento è importante. Diciamo prima con il presidente, è importante perché se un club a maggio ha già fatto due tornei federali, ha già messo in campo quasi una decina di squadre tra maschi e femmine, tra tornei regionali indore, poi i primi giovanili e poi adesso la Coppa Italia. Quindi, insomma, Stefano, il movimento cresce e sta crescendo anche il livello tecnico. Sì, hai detto bene, è proprio forse il momento di fare un po' il punto della situazione ed è un po' quello che sto facendo già non alla televisione, ma da solo, tutte le volte che vado a casa, il punto della situazione è il momento, insomma, via. Proprio per questo motivo sono stato molto concentrato su alcune cose che volevo fare per cercare di ampliare, cioè mi sono chiesto in pratica cosa si poteva fare per avere di più, perché ovviamente si cerca sempre di fare un po' di più, no? Quindi sì, sono contento dei risultati ottenuti, questi ragazzi sono cresciuti molto, sono arrivati tutti quasi al limite della categoria di quarta, anche se mi piacerebbe che facessero ancora di più, però in effetti poi il tempo è passato anche per loro ed è stato anche il tempo delle scelte, e quindi siamo arrivati un po' al limite, nel senso che anche loro hanno incominciato, c'è chi giustamente, secondo me, sono riuscito a convincere ad andare all'università, quindi hanno continuato a studiare, quindi il tennis è incominciato a diventare un po' una seconda scelta, ma giustamente, ripeto. Quindi sono arrivato un po', mi sono trovato un po' in questa situazione, cioè diciamo nel momento dei ricambi, non solo dei ricambi, ma cercare di riattivare un po' anche la scuola, mi sono trovato in questa situazione qua. Da questo punto di vista ero anche abbastanza seriamente preoccupato, nel senso che noi qui ci troviamo in un bellissimo posto, però logisticamente ci troviamo proprio nel mezzo di tutte le attività della polisportiva di Coriano, che è una polisportiva piuttosto grossa, che prende 500-600 ragazzi, quindi un po' schiacciati, diciamo. Quindi mi sono chiesto cosa si poteva fare per incentivare la nostra attività, perché ci sono dei periodi dell'anno, come per esempio l'estate, dove un po' risentiamo di questa loro attività, e non solo, perché per esempio noi abbiamo da lottare continuamente e costantemente anche con l'Aquafan, perché l'Aquafan con queste sue promozioni estive ci porta via un sacco di ragazzi, che i genitori lasciano lì tutto il giorno, sanno che c'è il perimetro, di lì non escono e quindi li mollano lì, e quindi noi ci troviamo in una situazione un po' delicata. Ti dico tutte queste cose perché, per fartela breve, alla fine siamo riusciti a collimare delle dinamiche, per cui alla fine ci troviamo all'interno del programma anche della Polisportiva. Di conseguenza da quest'estate, per esempio, avremo una scuola di un centinaio di ragazzi, forse anche di più, e questo ci dà moltissime possibilità, proprio per rifarmi a quello che dicevi prima, cioè, vedi il futuro da che cosa si costruisce? Si costruisce dal talento, ma il talento se te hai 50 ragazzi, cioè non è che sei un mago, no? Quindi se invece ne hai 150 di ragazzi, alla fine per il gioco delle percentuali hai più possibilità. Quindi noi abbiamo cercato proprio questo, cioè di avere più possibilità in mano per poter lavorare da questo punto di vista. Ed è il momento, perché in effetti quei ragazzotti che vedi là lavorare, loro sì, adesso chi va a Milano, chi va a Bologna, quindi alla fine sono molto contento di quello che loro hanno fatto, di questi tre anni fantastici, perché sono dei bambini, dei ragazzi veramente bravi, non ho niente da dire perché si sono sottoposti ad un lavoro veramente clamorosamente duro, e quindi non ho niente da dire. I risultati li hanno avuti e tutto, però adesso è il momento di guardare oltre, insomma, via. Attraverso queste cose speriamo di avere dei risultati. Stefano, stavo pensando, quando siamo venuti qua tre anni fa, tu avevi, anche l'anno scorso, avevi tutti i ragazzi a disposizione, adesso ce ne sono tre, gli altri stanno giocando i tornei. Questo vuol dire che durante la settimana giocano, giocano i tornei non qui a Coriano, non a Rimini, ma in giro per la Romagna, per l'Italia. Questo vuol dire che la scuola sta camminando con quello che gli hai dato tu, con la benzina che tu e i tuoi colleghi, magari citiamo poi anche i tuoi colleghi, quelli non sono qui presenti. Assolutamente sì, non è solo doveroso, ma praticamente il tennis a Coriano sono soprattutto loro, perché voglio dire, io sono venuto qua con le mie idee, con la mia mentalità, col mio modo di lavorare, col mio sistema, diciamo, di lavoro, ma se io non avessi loro non avrei la possibilità di fare niente, perché sono loro quelli che mi danno il train, il motore di questo circolo sono lei, la Veronica Vandi, che oggi è in giro con una squadra, poi c'è Massimo Ronchi, che fa il preparatore atletico, quindi lo staff è piuttosto completo e anche serissimamente impegnato in questo che tu dici. effettivamente è vero quello che dici, cioè i ragazzi sono in giro, fanno i tornei, perché sono in pratica riuscito, siamo riusciti, a cambiare loro la mentalità, cioè loro non hanno più quella mentalità di dire faccio due tornei in un anno, che sono quelli che riesco ad andare con la bicicletta. Questo sicuramente, per esempio, ti faccio un esempio chiaro, alcuni di loro, pur avendo una classifica bassa di 4-3, 4-2, 4-1, sono andati quest'inverno a giocare il torneo di Trento, io ci tenevo moltissimo, avevo fatto loro proprio una specie di ricatto morale, dicendo che se non andavano io me ne andavo, loro quest'inverno sono andati a giocare questo torneo, si sono divertiti moltissimo, qualcuno ha fatto anche dei positivi, sono saltate anche delle teste di 3-5, quindi voglio dire, sono contento, sono molto contento, questo sicuramente, proprio perché sono riuscito soprattutto a cambiare la mentalità di questi ragazzi, e questo sicuramente è importante. Ma ripeto, se non avessi loro vicino, io non riuscirei a fare niente. Stefano, la bontà del lavoro si misura sui progressi tecnici, quindi nel tennis anche sui miglioramenti delle classifiche, e anche sul numero delle squadre, quindi del movimento, che si riesce a mettere in campo. Qui tu hai centrato gli obiettivi, perché avevi detto, li portiamo almeno, incominciamo ad avere giocatori di turf, incominciamo a fare 7-8 squadre giovanili, un bel gruppo di serie D, perché quest'anno, vabbè, la D1 femminile, quest'anno, insomma, se ci fosse della serie B femminile così forte, e anche a livello maschile, ci sono delle squadre di serie D, che possono già incominciare a guardare in avanti. insomma, adesso, ancora è presto per sentirsi arrivati, perché il materiale umano ce n'è, però, insomma, incominci a intravedere qualche risultato del tuo progetto. Beh, sì, sicuramente, sicuramente le squadre erano uno degli obiettivi, cioè, rendere le squadre competitive, ma soprattutto, io volevo delle squadre, come posso dire, con una dignità, con una, cioè, con una prese, quando arriva Coriano, non deve arrivare la solita squadra, io e quando ero a Rimini, per esempio, molte volte arrivavano le squadre, cioè, quelle che venivano, diciamo, dalla campagna, e dicevano, ma dai, questi sono tre, dalla campagna, capito, c'era questa cosa qui, ecco, quando sono venuto qui, volevo trasformare queste squadre, volevo che avessero una dignità tale, per dire, quando tu vai in giro, ah, arrivano quelli di Coriano, sono tosti, non mollano mai, ecco, volevo, volevo che avessero una loro dignità, che è poi la dignità del lavoro, è sempre quello, insomma, ecco, il rispetto di se stessi, queste erano, diciamo, le cose più importanti su cui puntare. La squadra di D1, secondo me, fa storia a sé, perché se vogliamo parlare della squadra di D1, alla fine, allora, quasi mi scende la lacrimuzza, nel senso che ero il capitano di una squadra storica, perché questa squadra è la squadra clonata di quella che è stata la squadra mitica del circolo tennis Rimini, una squadra che è nata nell'Under 12 ed è arrivata fino alla Serie B, ecco, poi le cose sono andate come sono andate e qui ora mi ritrovo con questa squadra che è stata appunto clonata e si ritrova qui a cercare di portare una squadra di piccolo stampo in una realtà che forse è anche più grande di noi, ma è quello che proviamo a fare, cioè vorremmo arrivare come Coriano a giocare la Serie C e ti assicuro che a Coriano di squadre che giocano la Serie C non ce ne sono molte tra pallavolo, pallacanestro, calcio, quindi forse è l'unica squadra di Serie C che è presente nel comune di Coriano, quindi è una cosa a cui teniamo tantissimo, le ragazze lo sanno, ma non hanno bisogno perché loro, questa squadra fa storia a sé, cioè proprio dopo poi se poi tu vorrai domandare all'Alice, l'Alice è giusto che parli lei, non io, ecco. Ecco, a sto punto ti volevo chiedere Stefano, qual è il prossimo obiettivo, cioè quello raggiungibile, non ti chiedo di fare fare i torni di TF, perché vado in certi circoli e mi dicono, no, prossimo obiettivo, prossima stagione, torni di TF da 10.000, e magari con le ragazze potresti farlo, perché loro le hanno già fatti, quindi però insomma, la prossima cosa, il prossimo obiettivo tecnico raggiungibile, cioè magari tu pensi che in due o tre anni si possa fare una buona squadra anche di C maschile, quei ragazzi che hai? Stamattina ti devo confessare che guardavo i 10.000 per l'Alice, sto male, vero? Sto male, vero? I 10.000 per lei, nel senso che le vuoi fare? Sì, no, io vorrei che lei le facesse, ma in realtà, come hai detto tu prima, lei vuole fare la farmacista, quindi o la faccio uccidere da uno su commissione, oppure non lo so. I miei sogni, allora, i miei sogni sono, nell'ordine, vorrei incrementare l'attività dei corsi adulti, di cui non abbiamo parlato, invece secondo me è una realtà che in un circolo è importantissima, e quindi vorrei che i corsi adulti aumentassero, e non solo, ma chi partecipa ai nostri corsi adulti deve andare via soddisfatto, questo è uno dei miei principali obiettivi, non sogni. Questo mi piacerebbe molto, vorrei incrementarli ancora, abbiamo bisogno di un po' di spazio, e di spazio forse fra un po' ne avremo bisogno troppo, nel senso che bisognerebbe forse fare qualcosa di più, ma qui dopo devi parlare col dottore. Sogni, mi piacerebbe molto, devo dire, c'è una cosa che mi manca, mi piacerebbe di nuovo andare in giro ancora a portare qualche ragazzino a fare qualche torneo internazionale. Ci ho pensato da subito, finora l'ho rimandato, per il momento non c'è all'orizzonte nessuno che può fare questa cosa, ma io non mollo. Mi piacerebbe riuscire a portare prima o poi un ragazzino del mini tennis, o che ne so, qualcuno che sta crescendo, qualcuno che verrà fuori quest'estate dal centro estivo, qualcuno che si innamori di questo sport, che mi dia la possibilità di nuovo di andare in giro con lui o con lei, in giro per tornei internazionali, ma questo non per il prestigio personale, ma perché so che quello è il tennis, so che lì si imparano un sacco di cose, perché ho fatto queste cose, non solo con l'alizia che poi è diventata brave, ma l'ho fatto anche con persone che poi magari sono diventate meno brave, eppure sono diventate le migliori persone possibili. Ti faccio un esempio molto concreto. Sono molto felice che sia tornata in questo circolo anche mia nipote, l'Isotta Mancini, che non è arrivata mai al livello dell'Alice, ma ha fatto tutti con l'Isotta, sono andato in Danimarca, sono andato a Malta, sono andato in tanti tornei internazionali. Lei perdeva, perché adesso non mi ricordo, ma non credo che si sia mai qualificata. Lei perdeva, però è diventata la miglior giocatrice possibile che poteva diventare. Ancora adesso sta salendo questo inverno, è stato un inverno bellissimo, vado tantissimo con la speranza che lei diventi in seconda categoria alla fine dell'anno, e sono felicissimo. Tutte queste cose non le avrebbe potute fare se non frequentando questo tipo di tornei. Quindi per questo motivo vorrei fare di nuovo queste cose. Tra l'altro stavo pensando, mentre parlavi, che bisogna sconfiggere una cosa, Stefano, bisogna sconfiggere l'abbandono precoce al tennis, cioè uno non arriva a determinati livelli, bisogna forse instillare la gioia di giocare a tennis. Bisogna vedere con quale filosofia lavori tu nel campo, dipende come tu lavori nel campo. Io non sono quel genere di maestri che nel campo insegna a tutti uguale, cioè non sono io che cerco di mettere me stesso dentro gli altri, ma cerco di capire tutti i ragazzi che ho a disposizione per cercare di vedere, di dare ad ognuno quello che deve avere. Capito? Non so se mi sono spiegato. Non li tratto tutti uguali. Questo per me è importante, perché se a un ragazzino gli vendi del fumo, questo molla. Alla fine, quando si accorge che tu gli hai venduto del fumo, la delusione è troppo grossa, le aspettative lo schiacciano, e questo molla. Poi, adesso, questo è un discorso molto grosso, e quindi io ho fatto solo della filosofia spiccia, quindi, voglio dire, poi ci sono tante altre strade per cui uno smette, però questa è una delle possibilità. Cioè, se il maestro bleffa, è la fine. Il maestro deve essere sempre, secondo me, o l'allenatore che sia, deve essere sempre, secondo me, al servizio di ognuno di loro, perché X non è mai uguale a Y. Bene, allora, parliamo di servizio, perché è proprio un colpo del tennis. No, Stefano, stavo pensando che, che, adesso i maestri hanno una grande responsabilità, perché il tennis sta vivendo un nuovo boom, e c'è tanta gente che si sta rivolgendo al tennis nuovamente, quest'estate, vi aspettate un'estate importante, mi dicevi con i numeri, perché, i ragazzi, ecco, quindi avete anche voi come maestri, una responsabilità, nuova, che non è solo quella dell'ora, che finisce l'ora finito, chiuso, un capitolo completamente chiuso, ma quella di creare anche un movimento e degli sportivi veri a 100%, cioè persone che, che sappiano stare anche nella società, non solo nel campo da tennis, non credi, insomma, che... Guarda, onestamente quello, quello di finire l'ora, è proprio una filosofia che qui non c'è. Le lezioni private, che peraltro fanno praticamente del tutto la Veronica e l'Alice, sono molto divertenti, perché io le vedo da fuori, e poi, sai, giocare con delle ragazze che giocano bene, sono giovani, vanno su tutte le palle, ti si arrampicano sugli alberi, cioè, fatiche che vanno via alla fine dell'ora, capito, scontente queste persone. E poi, come ti dicevo prima, uno dei miei obiettivi più grossi, è proprio quello di dare all'amatore, diciamo così, non so come chiamarlo, insomma, quello che viene a fare i corsi, quello che viene, proprio l'entusiasmo, di sentirsi importante. Cioè, io questo, mi piacerebbe, capito questo, adesso attraverso cosa, devo ancora pensare bene, con la mia mente malata, ma voglio dare a tutti, questa cosa di sentirsi importante, non deve sentirsi importante, soltanto chi fa il torneo di seconda categoria, non è così, perché comunque il tennis è talmente ampio e vasto, il campo del tennis, che lo spazio c'è per tutti. Qui, per esempio, ti faccio un altro esempio lampante, qui, per esempio, si allena una ragazzina che viene da Ravenna, che è 4'5, mi sembra, 4'6, e ha 4'4, e che ha 29 anni, va bene? Non è proprio una ragazzina, esatto, una ragazza, una ragazza, una ragazza, beh, lei si allena con un entusiasmo, una voglia, ma io ti assicuro che lei fa degli allenamenti durissimi, perché lei, con sua mamma, non lo so così, abbiamo parlato tanto, per lei il tennis rappresenta tutto, allora, io cosa faccio? Gli dico, guarda, hai 29 anni, lascia stare, no, cioè, no, a me piacerebbe che Giulia, a cui il tennis piace in una maniera esagerata, un giorno mi dicesse grazie, anche solo per essere diventata istruttrice, di primo grado, che è quello che vorrebbe, capito? Allora, lei si allena mille volte, ma da Ravenna, cioè, d'inverno, con la macchina, ti rendi conto, quindi, questo per dirti, le realtà nel tennis sono diversificate al massimo, non è che c'è solamente questa sburoncina qui, che gioca in seconda categoria, capito? No, ma sai, ti capisco, perché anche uno scarso come me, per trovare un po' di gara nel tennis, cosa ha fatto? Come ha fatto il giornalista, cioè, io potessi parlare solo di tennis, purtroppo mi fanno parlare anche di altre cose, però il tennis è l'humus dove siamo cresciuti tutti, e di dove ci siamo formati. Allora, parliamo con la nostra farmacista, la nostra farmacista, nonché maestra, nonché giocatrice vera di tennis, lei sì che è stata una giocatrice, perché ha visto il tennis quello vero, quello del tennis internazionale, però, ecco, mi piace sempre parlare con dei giocatori, lo trovo spesso nel tennis, meno in altri sport, giovani che hanno già vissuto una parentesi di un certo livello, e che sono già laureati, insomma, che nella vita hanno già fatto parecchie cose importanti, e sono ancora molto giovani, questo vuol dire che, io non so se nel tennis arrivano i migliori, però, insomma, quelli con la testa, in un certo modo, che magari, ecco, ti posso assicurare che ho preparato, non dico il nome, ma per la maturità, quando lavoravo per il centro tempo di Cesenatico, dei giocatori che, alla maturità, non dico che erano tra i migliori, ma quasi, questo vuol dire che, secondo me, per diventare un tennista, con questo lungo preambolo, per diventare un tennista bravo, bisogna anche essere dei potenziali, diciamo studiosi, di potenziali, di gente che, se avesse fatto la carriera scolastica, sarebbero diventati dei numero uno, anche lì, ecco, che, dalla maturità, prendono quasi tutto il massimo, insomma, ecco, allora, scusa, Alice, per dire, ne ho dottoressa, in farmacia, laureata a febbraio, maestra, ecco, ma a tutti adesso si stavano chiedendo, vuoi fare la farmacista, o la maestra di te? Prima cosa, perché, perché abbiamo fatto, abbiamo detto tutte queste cose, poi l'agenda, cosa fa lì, c'è la farmacista, però, hanno fatto un sacco di bandi nuovi per le farmacie, te lo dico perché, è successo, 20 giorni fa, beh, è una notizia di 20 giorni fa, la regione ha, quindi, cosa fai? Bella domanda, per partire, siamo partiti carichi, no, allora, innanzitutto, sì, mi sono laureata a febbraio, ancora, devo iscrivermi all'albo, farò l'esame di stato a giugno, a breve, quindi, e dopo aver fatto l'esame di stato, potrò esercitare in farmacia, quindi, ancora sono in stand by, nel frattempo, per la felicità di Stefano, sono qua, no, anche per la mia, ovviamente, e sono qua, insieme a loro, a Veronica, Stefano, Massimo, e ho più tempo, quindi, fortunatamente, mi dedico, più ore, al tennis, inoltre, abbiamo anche, promosso, alla scuola materna, il tennis, insieme al calcio, e al, insieme al calcio, aiutami, e al basket, due mattine, alla settimana, io e Veronica, siamo venute qua, alla polisportiva, cercando di introdurre, appunto, i bimbi, della scuola materna, allo sport, e sperando, insomma, che aumentino i numeri, per i centri estivi, quest'estate, e, detto ciò, non so, cosa mi riserverà il futuro, tutte le porte sono aperte, quindi, aspettiamo e vediamo. Tu le tieni tutte aperte, insomma, le possibilità, perché, è chiaro, però, insomma, rimaniamo, a 360 gradi, però, il tennis, è sempre una fetta, importantissima, che, non sparirà mai, ovviamente, l'ideale, sarebbe, riuscire a conciliare, tutte e due le cose, riuscire a fare, tutte e due le cose, non è facile, però, ovviamente, il tennis, non sparirà mai, dalla, dalle mie prospettive, di vita, sì. L'anno scorso, ti abbiamo visto qui, fare una finale all'open, però, insomma, con l'università, gli studi, forse qualcosa ti portava via, no, di tempo, questa, Stefano ha detto prima, sto guardando il calendario dei 10.000, perché ci stai pensando a farne, però, adesso, sai, guardavo, il livello si è un pochettino abbassato, per un motivo, perché ce ne sono tanti, veramente, quindi, insomma, qualche, qualche soddisfazione, te la potresti togliere, è chiaro che, dovresti fare, la tenista professionista, però, magari qualche vittoria, qualche scalpo celebre, eh? Certo, sì, sì, ma, sicuramente, l'idea c'è, quindi, soprattutto, perché adesso ho finito di, di studiare, sperando di avere un pochino più tempo, prima di, del lavoro, e, sicuramente, la possibilità di fare qualche torneo c'è, già adesso, e, stiamo guardando, ho guardato, qualche torneo open, qua, per ricominciare un attimino, a ritrovare il ritmo, in più, adesso abbiamo iniziato anche la D1, la domenica, sempre con Veronica e Alessia, che, finalmente, fortunatamente, ci siamo ritrovate, dopo qualche anno di stand-by, in cui una ha cambiato città, l'altra, giocava in un altro circolo, ci siamo ritrovate tutte quante, nello stesso circolo, quindi, siamo tutte contente, cariche per, per giocare ogni domenica, e raggiungere, speriamo, la promozione, come è partita la Serie D, cosa avete fatto? Abbiamo fatto, la prima giornata, abbiamo vinto, a Ponte Lungo, a Bologna, due giornate, le avete già fatto? Una, perché è partita, una domenica, in ritardo, parliamo di questo club, tu, fai i corsi, fai i corsi adulti, ma, poi fai anche i corsi, quelli, cioè, parlaci un attimino, di quello, del tuo ruolo tecnico, cosa fai, in uno specifico, e così, spieghiamo un po' a casa, anche perché, io penso che, se uno devesse prendere, un'ora di lezione, è meglio fare, un'ora di lezione, con l'alice, piuttosto che, con un vecchio, come me, con un, no come te, però, insomma, potendo scegliere, no no, ma perché, potendo scegliere, anche la Veronica, insomma, avete qui, insomma, il livello tecnico, complimenti Presidente, un bel livello, insomma. Sì, io e Veronica cerchiamo di toccare tutti i tasselli di un circolo, quindi dai bambini fino ai corsi adulti, passando per lezioni private, passando per l'agonistica, siamo un po' immischiate, impastate, in tutto quanto, e, quindi, niente, ovviamente, come diceva Stefano prima, stiamo puntando soprattutto anche sui corsi adulti, e cercando sempre di coinvolgere tutti quanti, stiamo organizzando un torneo di corsi e, ovviamente, puntando sempre sui numeri dei bambini, perché, oltre al movimento dei soci, chiaramente un buon circolo nasce e cresce anche per i bambini, insomma, da partire dal mini tennis fino a livello agonistico. Ecco, Alizia, penso che la sfida, per quanto ti riguardi, sia quella di contribuire a creare un movimento femminile qui al circolo tennis coreano di uguale livello a quello maschile o comunque, a livello femminile, come ha detto prima Stefano, siete un pochettino più indietro. Ecco, cosa pensate di fare? Magari, qualcosa di particolare, di specifico per le ragazzine, non lo so? Ma, allora, sì, nell'agonistica sono tutti ragazzi per adesso e stiamo cercando di far crescere un gruppo di perfezionamento che poi diventerà magari anche pre-agonistica e che soprattutto conta delle ragazzine. Sono molto contenta e loro lavorano già con noi da un anno, quindi soprattutto cerchiamo di puntare a far crescere loro e magari chissà in un futuro. Esatto. Ma io so che voi avete una grande speranza qui nel tennis femminile, una ragazza che sta crescendo molto che si chiama Sabrina. Sabrina che è diciamo l'elemento di punta del CINI, che non vuole intervenire, è dietro la telecamera, però diciamo diamo a Sabrina qualche di Sabrina nel senso che non sarà la più grande speranza del tennis club coreano, però è quella che materialmente ogni giorno lo fa andare avanti. Ed è la giocatrice di punta. La Sabrina se prendessi in mano la racchetta adesso vale 4-3, non è che parliamo dell'ultima arrivata, perché insomma 4-3 è già una classifica dignitosa, quindi adesso perché non vuole parlare, ma lei è umile, rimane umile, quindi niente di che, lavora di dietro lavora di dietro, però è assolutamente indispensabile perché è il motore di questo circolo. Stavo pensando che se andate in serie B vi serve la ragazza del vivaio e lei è del vivaio. Già in serie C, già in serie C bisogna che ci attrezziamo perché c'è il vivaio anche in serie C, quindi lei adesso è un po' truccata, ma neanche tanto può somigliare a un under 16, quindi va bene. Allora, ha detto che le prospettive del settore femminile sono buone, allora diciamo Alice quest'estate open qualche 10.000 qualche 10.000 e quindi gli open qui intorno le farai tutti. È l'open l'obiettivo vero secondo me è vincere l'open di Coriano perché l'anno scorso ti è sfuggita veramente per poco, però hai perso contro una giocatrice Giulia Pasini che sta giocando veramente bene, cioè dall'anno scorso che sta facendo veramente delle ottime cose. Sì, sì. Se vuoi dire l'open di Coriano così lo presentiamo l'open femminile l'anno scorso è stata una finale pattesca di livello altissimo poi durata 4-2 al terzo è perché sei calato un po' fisicamente forse sicuramente sì sicuramente quello è influito così lo presentiamo l'open di Coriano tra poco più di un mese 1000 euro di molte premi sì 1000 euro dalla data 21 giugno 25 giugno quindi tra poco più di un mese e speriamo quest'anno di portarlo a casa dopo due finali combattute speriamo sia l'anno buono ci proviamo sicuramente ancora una wildcard per la Sabrina perché va bene d'accordo allora concludiamo questa prima parte del nostro viaggio all'interno del tennis club coreano e poi faremo un bilancio conclusivo ancora con il presidente con il presidente Fabio Dini concludiamo questa chiacchierata a proposito del tennis club coreano e lo facciamo parlando dell'attività che forse a lui sta più a cuore cioè l'attività di base l'attività sociale quella che coinvolge un numero notevole di giocatori soprattutto di ragazzi partiamo dalla prossima iniziativa cioè la scuola estiva qui abbiamo dietro di noi la locandina la scuola estiva del club che partirà il 13 di giugno una settimana gratuita una settimana di prova poi dal 20 giugno fino al 12 agosto si potrà giocare a tennis qui al club senza costi eccessivi con costi assostenibili e in un clima tra l'altro completamente sicuro quindi qui i ragazzi possono venire sono lontani dalle strade sono lontani dai pericoli in mezzo immersi nella natura allora presidente questa è la prossima sfida insomma sì questa è una cosa che facciamo tutti gli anni finita la scuola la prima settimana senza scuola diamo la possibilità a tutti i bambini i ragazzini che non hanno mai giocato a tennis che vogliono provare vengono qua un paio due tre volte la settimana vengono qua giocano e poi dopo decidono se continuare oppure no lo facciamo già diversi anni vediamo che c'è un bel seguito c'è una bella partecipazione e quindi speriamo anche quest'anno di arruolare nuovi atleti ecco tra l'altro voi state organizzando cioè partecipate più che organizzando state partecipando a diversi campionati di serie D quindi abbiamo parlato prima del livello con il maestro Swick del livello più alto c'è la D1 la D2 però fate anche di 3 di 4 e qui coinvolgete proprio i neofiti o quasi femminile soprattutto sì nella femminile abbiamo altre due squadre una di due e una di tre dove non ci sono solo ragazzine ma anche veterane ragazze che giocano già da diverso tempo sono tutte soci qui del circolo sono anni che giocano frequentano regolarmente il circolo e si dilettono anche loro in queste competizioni a squadre ogni anno c'è qualche nuova ragazza che magari che viene dai corsi e quello già è una soddisfazione perché donne e signore che vengono qua iniziano a giocare poi entrano addirittura a far parte della squadra fa solo che bene fa solo è una soddisfazione anche questa Presidente allora concludiamo con un invito rivolgendoci agli sportivi che ci stanno seguendo a casa seduti davanti al televisore perché bisogna venire al tennis club coreano quest'estate qual è il motivo principale ecco se dovesse rivolgersi ai nostri telespettatori allora io sarò di parte però il nostro circolo secondo me è molto bello è bello perché è immerso nella natura qui c'è una pazza che è una cosa indescrivibile non ci sono i rumori delle macchine quasi non si sentono le macchine non possono entrare cerchiamo di tenere sempre tutto in ordine abbiamo non è più che un circolo sembra quasi un parco a volte quindi è bello la gente qui sia noi che anche i soci sono tutte persone allegre qui c'è sempre qualcosa da bere da stuzzicare da mangiare lo sai abbiamo persino fatto un parco che ancora non è attivo al 100% ma già dal prossimo anno sarà un parco a tutti gli affetti proprio per cercare di rendere il nostro circolo sempre più bello e sempre più attraente anche come come spazio come atmosfera e quindi i prezzi da noi sono molto modici e quindi invito a tutti almeno provarci quindi con un invito a trascorrere l'estate al tennis club coreano un posto veramente meraviglioso dove non c'è alcun problema di sicurezza e c'è molta molta natura che circonda il club i campi da tennis quindi si vive in un ambiente tranquillo rilassante e molto bello con questo appello noi concludiamo questa puntata di Circo del Tennis Romagna qui al Tennis Club coreano ringraziamo il presidente Fabio Dini e arrivederci alla prossima puntata in questo viaggio presso i circoli tennis romagnoli grazie a tutti